Il vento qua in Veneto soffia forte, il vento per l'indipendenza. Oggi è una manifestazione molto importante, io spero che arrivino migliaia di persone, ma già vedo che la piazza è strapiena. È importante far sentire la nostra solidarietà nei confronti di queste 25 persone che sono state indagate e arrestate, degli arresti assurdi e incredibili perché erano, come è stato confermato poi anche dagli interrogatori, delle pure azioni dimostrative, come è stato fatto poi nel 1997. Noi diciamo che le idee non possono essere messe in gabbia e quindi siamo qua tutti assieme a dire viva il Veneto, liberate i nostri fratelli veneti.